E chiamiamo su Ringer, all'anno più, da Firenze, Antonia Vemani. Contro di lei, all'anno rosso, Valentina Muggia. Grazie a tutti. 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 Alla avanti o di là. Non lo mettiamo per più quei l'intanto. Vai a cercare. Vai a cercare. Subito il testo e dopo! Subito! Aspettate, continua, 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 non preoccupate con la gamba. Sei già dentro, Valentino, sei già dentro! Scegli di essere intelligente! Vienici sempre dentro, vienici sempre dentro! Brava! 20 secondi anche! Brava! Fai vedere la ricorsa anche! Chiudi te, chiudi! Bravissimo! Back! Chiudi, chiudi! è la terza ed ultima ripresa! Bravo! È la terza ed ultima ripresa! Non da lontano. Non da lontano. Non da lontano. Usa quei piedi, ripostatevi. Voglio fare una ricorsa, spostate sui piedi e postate su una destra. Signorissimo, signor! Signorissimo, signor! Signorissimo, signor! Signorissimo, signor! Signorissimo, signor! Taglia male! Taglia male, che è nostra! Valtracciati! Valtracciati! Quanto si chiama! Bravo! Polpo punto, Anze, polpo punto! Ti sta costruendo! Bravo! Bravo! Vai la pianta! Bravo! 30 secondi, va! Gira, gira, gira! Gira, gira! Appena si muove, non riesce a scoprire! Gira, 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 gira! Guardiamo, guardiamo! Guardiamo, guardiamo! Vai, vai, vai! 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 Gira, gira, gira! Gira, gira! Sotto, con lo schicchio! 10, 2, 3, 2, 1! Arrivare! Ed è la fine dell'incontro! Andiamo! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.